Qui siamo al Carrefour Express e Urban Life, è un format completamente diverso dalla catena francese. In questo posto specifico che è in corso Garibaldi si focalizza tutto sul cibo fresco e preparato al momento. I prodotti vengono rifatti continuamente a seconda delle esigenze dei clienti, inoltre c'è un grandissimo assortimento di termini di insalate, di insalate di frutta, di macedonie e tutto quanto è a disposizione del cliente. Addirittura il cliente può scegliere in maniera del tutto libera che tipo di insalata comporre, gustare qui oppure portare via. Su questo piano c'è anche un angolo dedicato alle birre, con una vastissima selezione di birre artigianali, particolari, etichette atipiche, che sono esposte in questa parte molto scura e molto più simile ad un pub, dove si può degustare la varietà di birra e tutti i bari si sono molto preparati per dare consigli al cliente su quello che è più adatto, accompagnare ad un pasto oppure da portare a casa per un'occasione. Al piano di sopra c'è una grandissima sala dove si può lavorare, stare a mangiare, grandi tavoli a libero uso del cliente. In questo posto specifico non c'è un target definito, nel senso che il target varia molto in base ai momenti della giornata. Durante la mattina appunto funziona molto con le colazioni di passaggio, nella mattinata funziona molto bene come spazio di co-working per studenti o per liberi professionisti, mentre all'ora di pranzo si riempie di persone che lavorano negli uffici qui intorno nella zona libera di Garibaldi, la sera invece c'è chi viene a fare un aperitivo, per cui è un aspetto di questo formato che lo fa mutare continuamente e fa essere sempre pronto a rispondere alle esigenze di ogni tipo di clientela.